Dopo il taglio del nastro di ieri alla presenza del Ministro della Salute Roberto Speranza dell'imponente hub vaccinale messo in piedi all'Università di Teramo, oggi proseguono spedite le vaccinazioni. Nell'hub universitario si vaccinerà giorni alterni per spalmare la popolazione anche sulle altre sedi. Circa 800 le dosi che verranno somministrate oggi e domenica. Si è partiti gradualmente con le linee fino ad attivarne 15 e con l'obiettivo a pieno regime di vaccinare 3.600 persone al giorno. L'area accoglienza, quindi check-in diciamo, è nell'atrio davanti al corridoio del plesso d'annunzio, quindi le persone arrivano, se hanno i moduli precompilati li consegnano, altrimenti ci sono dei volontari che aiutano le persone a compilare i moduli. Viene dato un numero, c'è una prima area di sosta con dei monitor, quindi ci si ferma in questa prima area di sosta, quando esce il numero dell'interessato viene indicato sul monitor l'area, l'aula e il punto vaccinale dove si deve recare. A questo punto quindi entra nel corridoio e si colloca nelle zone di attesa, sono delle sedie lungo il corridoio, delle aule, ma sono veramente attese di pochissimi minuti, poi si entra nell'aula dove c'è il punto vaccinale, c'è anche una possibilità di sosta di qualche minuto, si fa il vaccino, poi c'è una zona di sosta in ogni aula per i 15 minuti successivi richiesti per la verifica dello stato del vaccinato e poi la persona vaccinata esce dall'aula da un ingresso diverso in modo tale da non sovrapporre i flussi. Quindi un'organizzazione che ieri ad esempio ha portato un anticipo di 15 minuti rispetto ai tempi, quindi tempi di attesa veramente limitati. Contiamo di organizzare come abbiamo fatto ieri, insomma abbiamo portato un pianoforte a coda, quindi anche dei momenti di relax, di musica. C'è la radio di Ateneo che è collocata al centro, quindi sospesa nel ponte, quello che chiamiamo il Ponte Rosso, quindi si viene all'Università di Teramo non soltanto per vaccinarsi ma anche per passare un po' di tempo in tranquillità, quindi in un campus molto accogliente.